Di giorno un elegante quartiere storico, di notte teatro di schiamazzi e movida violenta. Il rione Monti di Roma, tra il Colosseo e il Quirinale, ogni sera dopo le 23 è vittima di alcol e immondizio. I residenti denunciano l'emergenza rifiuti e la movida notturna non aiuta a mantenere l'ordine. Pieno di locali, cui non so quanti abbiano la licenza regolare. Questi, oltre a produrre la spazzatura, oltre all'abuso dello spazio pubblico, senti urlare, schiamazzare, gente ubriaca, fino alla mattina, quando giorno dopo uno deve andare a lavorare. Spesso vengono ignorati i divieti di vendita da asporto di alcolici e così i bicchieri vuoti vengono lasciati a terra dai giovani in maniera incontrollata e la mancanza di cassonetti non aiuta. La situazione è un po' critica e noi ci ritroviamo a ripulire le vetrine dei negozi perché la mattina le ritroviamo coperte di bottiglie. La giunta comunale vuole prorogare l'ordinanza del sindaco Gualtieri che impone ai minimarket la chiusura alle 22. La stretta infatti terminerà il 15 ottobre, ma la situazione incontrollata richiede un prolungamento.